Le entrate per le multe di area B previste fino a dicembre sono basse, probabilmente un avvio soft voluto, anche perché sono previsti 50 ingressi senza che scatti la sanzione e a oggi le telecamere che sorvegliano i varchi di ingresso della città sono solo 16 su 186. Ma a compensare i pochi introiti da questa novità ci penseranno gli incassi per la sosta sulle strisce blu, che passano dai 3 milioni nel bilancio di previsione del 2018 ai 6 del 2019. Non solo, aumenteranno anche le entrate dai biglietti e dagli abbonamenti ai mezzi pubblici e si passerà così dai 401 milioni del 2018 ai 409 di quest'anno, grazie anche a un incremento dei passeggeri che a gennaio e febbraio è stato dal 6% rispetto all'anno scorso. L'importo per l'area B previsto dal comune per i trasgressori prevede una sanzione da 80 euro, quindi significa che l'ente prevede di staccare poco più di 23 mila verbali. A dicembre poi si dovranno contare altri 78 varchi dotati di telecamere in aggiunta ai 16 di partenza. Per quanto riguarda invece l'altra ZTL area C, il comune pensa di incassare tra ticket e sanzioni 31,5 milioni di euro. Aumentano invece gli incassi della sosta su strada per cui ci sarà tolleranza zero. Anzi raddoppieranno pure. Per il 2019 il comune prevede di incassare dalle strisce blu 6 milioni di euro. Poi ci saranno anche gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti del trasporto pubblico locale. Per il 2019 infatti il comune ha valutato di ottenere dalla vendita dei titoli di viaggio 409 milioni di euro. Previsioni che non tengono ancora in considerazione l'aumento del biglietto da 1,5 a 2 euro previsto da luglio. Alcuni dati hanno portato a queste cifre. Nel 2018 i passeggeri dei mezzi pubblici sono aumentati del 6,4 per cento e le multe combinate a chi è stato sorpreso a viaggiare senza biglietto sono aumentate del 30 per cento.